Capita spesso che la lingua si muove tanto, ma il cervello si muove a stento, e che parla assai e si faceva vanto, i suoi valori si andavano a cuvento. Il saggio, prima di parlare, apre i ricchi e sta a sentire. E' stata l'antella ma voglio ballare. Forza Vicenzo e Peppe Casili! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!